Io ringrazio il Presidente Occhiuto, mi congratulo con lui per lo splendido risultato e credo che questa relazione forte che c'è tra la Calabria e Roma è una relazione che nasce 40-50 anni fa in maniera fortissima, soprattutto nel dopoguerra, quando Roma per i calabresi ha rappresentato un sogno, la possibilità di un impiego, di un lavoro, la possibilità di una emancipazione, di far studiare i figli, di fare tante cose in questa città e i calabresi hanno contribuito alla crescita di questa città in maniera significativa. Mi fa molto piacere che il Presidente Occhiuto sostenga la mia candidatura e credo che con l'aiuto dei calabresi di Roma riusciremo a invertire la rotta anche perché, come diceva il Presidente Occhiuto, loro rappresentano la continuità, noi rappresentiamo invece il cambiamento, una proposta nuova e credo che con l'aiuto dei calabresi questa Roma la rimettiamo in pista e anzi affronteremo con grande serenità e voglio dire anche ripulendo la città, facendo in modo che questa città torni ad essere dignitosa, vivibile, sicura, efficiente. I calabresi giocheranno un ruolo determinante per cui questo appello va a loro e va al fatto che quel sogno continui a vivere tra la Calabria e Roma. Quindi amici calabresi, damose da fare.